Da ieri è cominciata l'era Riolfo in casa Pistoiese, una scossa che la società di Patron Ferrari ha voluto dare, esonerando l'ormai ex allenatore Niccolò Frustalupi e cambiando così guida tecnica, affidando la squadra ad un mister con una lunga esperienza alle spalle, navigato in questi campionati e soprattutto ritenuto la persona giusta per tirar fuori da una situazione delicata questa Pistoiese. Il capitolo Frustalupi si è chiuso definitivamente con il suo commento sui propri social, avrei voluto che tutto andasse diversamente, ho dato tutto me stesso ma non è bastato, voglio ringraziare tutti i giocatori per l'impegno che ci hanno messo, tutto lo staff per il supporto che mi ha dato e i tantissimi tifosi per l'affetto che mi hanno dimostrato. Il campionato è ancora molto lungo e sono sicuro che la squadra raggiungerà gli obiettivi che si merita, continuerò a tifare Pistoiese come sempre. Con Riolfo la Pistoiese dovrà voltare pagina, ritrovare la via giusta, un'identità che possa far fare risultati, risalire la classifica. Le prime parole di Giancarlo Riolfo sono state positive nello spirito con cui affronterà questa nuova avventura. Lui che non è nuovo a risettare squadre in difficoltà. Un mister ambizioso che ha parlato di un gruppo che, perlomeno per quanto ha potuto constatare, è giovane ma con grosse qualità. Fa rendere al massimo quelle che sono le potenzialità di ogni singolo, questo è il suo obiettivo. Tutti devono mettersi in gioco, ha detto in occasione della presentazione. Non ha parlato molto di moduli di gioco preferiti per il tecnico ex carpi, il problema è adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Serve essere propositivi in ogni gara, un aspetto mentale che sarà fondamentale e nuovi stimoli. E adesso allora sarà il campo, come sempre a dare risposte, ovviamente con il tempo necessario, ma già una vittoria domenica al Marcello Melani contro l'ultima della classe lucchese sarebbe un primo passo per ingranare una marcia diversa. Una sfida difficile, uno scontro diretto, un derby molto sentito. Dovremo prepararla al meglio, quello che conta è lo spirito che i ragazzi metteranno in campo. Queste le parole di Giancarlo Riolfo.